ma può riguardare sia l'intero contenuto della domanda, e quindi avremo una sentenza definitiva, ma anche può riguardare parte di essa, e quindi avremo una sentenza parziale. Solo in alcuni casi si opera con un decreto da parte del Presidente, cioè quando si sia verificata una causa di estinzione del giudizio o quando il ricorso sia divenuto improcedibile. Il decreto definisce il giudizio esattamente come una sentenza definitiva e se non viene opposto passa in giudicato, per questo di conseguenza tutte le considerazioni che andremo a fare sulla sentenza varranno anche sul decreto. Il termine sentenza è riservato alla pronuncia che definisce in tutto o in parte il giudizio, in particolare nel codice del processo amministrativo la sentenza è anche la pronuncia del giudice su questioni pregiudiziali attinenti al processo, nonché questioni di merito. Le sentenze si possono suddividere in sentenze di rito e sentenze di merito. Le sentenze di rito sono definite all'articolo 35 che riconduce alle sentenze di rito pronunce di irrecivibilità, quindi tardività della notifica o del deposito del ricorso, inammissibilità, quindi carenza di interesse o di legittimazione, la cosiddetta sentenza sulle condizioni per l'azione, improcedibilità e quindi mancata integrazione del contraddittorio o sopravvenuta carenza di interesse e infine estinzione del giudizio. Per quanto concerne invece le sentenze di merito, il CPA annovera fra le sentenze di merito la declaratoria della cessione della materia del contendere con decreto del Presidente o con sentenza se la controversia è in fase cautelare o in Camera di Consiglio, che si verifica quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Facciamo un esempio perché è un caso molto contorto, ad esempio il provvedimento impugnato viene annullato d'ufficio dalla pubblica amministrazione in termini conformi all'interesse del ricorrente prima della pronuncia del giudice. Il secondo caso è la declinatoria della giurisdizione. Al fine della decisione il giudice procede con un ordine logico, esaminando prima le questioni di rito, quelle concernenti la competenza e giurisdizione e poi quelle di merito. Inerente all'ordine logico si è dibattuto molto sull'ordine da rispettare nel caso di presenza di ricorso incidentale, in particolar modo in presenza del ricorso incidentale escludente, cioè con il quale siano sollevate le questioni dirette a contestare la legittimazione o l'interesse a ricorrere del ricorrente principale. Il primo orientamento che riconosce l'analisi preliminare del ricorso incidentale, il quale se fondato non dà luogo all'esecuzione del ricorso principale, poiché per esso sarebbe carente della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Quindi questo primo orientamento riconosce le analisi preliminari del ricorso incidentale. Questo orientamento però è in linea sì con il principio secondo cui le questioni concernenti, le condizioni dell'azione vadano esaminate prima del merito della domanda, ma è stato criticato fortemente anche dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia, poiché assegnerebbe al ricorrente incidentale una posizione ingiustificata di vantaggio, e quindi in contrasto con il principio della parità delle parti. E quindi lo stesso Consiglio di Stato ha modificato la sua adesione al primo orientamento, aderendo ad una posizione più sfumata, poiché ha sostenuto che esse debbano essere esaminate in via prioritaria quando abbiano ad oggetto la contestazione della legittimità a ricorrere del ricorrente principale. Tuttavia, anche in tal caso, l'esame del ricorso incidentale non precluderebbe quello del ricorso principale se le questioni sollevate nei due atti fossero attinenti alla medesima fase procedimentale. È di fondamentale importanza andare ad analizzare ora gli effetti della sentenza di annullamento per due principali ragioni. In primo luogo perché il giudizio amministrativo è stato concepito storicamente come giudizio di impugnazione di un provvedimento, e poi per la sua peculiarità. Il nucleo si è identificato a lungo con l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato in relazione a certi vizi enunciati nel ricorso. Quindi la sentenza di annullamento accerta la sussistenza di un vizio che comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato. Un'altra concezione però identifica come centrale l'accertamento della lesione di un interesse legittimo e quindi la posizione soggettiva. Nel dibattito sulla sentenza di annullamento vi sono alcuni profili che è importante sottolineare. In primo luogo abbiamo l'accertamento che costituisce il nucleo essenziale della sentenza del giudizio amministrativo e in secondo luogo dobbiamo sottolineare che spesso è necessario un nuovo esercizio del potere per attuare la sentenza stessa. Fatta questa piccola premessa la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di dare una risposta identificando ordini di effetti della sentenza di annullamento ulteriori rispetto all'eliminazione del provvedimento e ricostruendo proprio la sentenza come non meramente costitutiva. Questi effetti non hanno un carattere reale come la caducazione dell'atto impugnato illegittimo ma obbligatori. Infatti costituiscono a carico della pubblica amministrazione un onere di condotta. Ci sono essenzialmente tre ordini di effetti della sentenza di annullamento. L'effetto eliminatorio o caducatorio poiché la sentenza di annullamento comporta l'eliminazione della realtà giuridica del provvedimento annullato in modo che gli effetti prodotti vengano meno e quindi opera ex tunc. Poi abbiamo un effetto ripristinatorio e un effetto conformativo. La riflessione però più recente sugli effetti della sentenza di annullamento ha considerato particolarmente gli effetti conformativi perché essi determinano la stabilità o meno del risultato raggiunto del ricorrente con la sentenza stessa. Ed è lo stesso Nicro ad aver proposto una classificazione delle utilità. Se l'annullamento è stato disposto per un vizio di illegittimità sostanziale, ossia un vizio che inerisce la illegittimità del contenuto in quanto tale dell'atto impugnato, il vantaggio che ha ottenuto il ricorrente è maggiore perché l'annullamento per vizi di illegittimità sostanziale imperisce l'eliminazione di un nuovo provvedimento con quel contenuto. Ad esempio si può pensare all'esproprio per violazione di una norma che quindi preclude all'amministrazione la possibilità di un nuovo esproprio dello stesso bene. Se invece l'annullamento è disposto per un vizio di legittimità formale, quindi si pensi al vizio che attenga ad un adempimento procedimentale oppure alla forma dell'atto o alla motivazione, in generale in questo caso il vantaggio che ottiene il ricorrente è fortemente minore perché l'annullamento non impedisce di per sé l'eliminazione di un nuovo atto con lo stesso contenuto, purché l'atto non sia emendato dai vizi che vi erano prima nella sentenza. Se però il potere dell'amministrazione in base a una norma sostanziale è soggetto a un termine perentorio che ne precluda la rinnovazione o comunque può essere esercitata una volta sola, si pensa ad esempio al caso di potere di controllo, allora in questo caso anche l'annullamento per un vizio formale risulta pienamente satisfattivo per il ricorrente perché la rinnovazione del procedimento è preclusa. Adesso andremo ad analizzare le impugnazioni. Le impugnazioni sono disciplinate dall'articolo 91 fino all'articolo 99 CPA e il libro terzo del CPA è dedicato alle impugnazioni delle sentenze. Sono previsti infatti vari mezzi di impugnazione, in primo luogo troviamo l'appello delle sentenze del TAR davanti al Consiglio di Stato con eccezione delle sentenze del TAR della Sicilia che sono appellabili invece solo davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. Poi abbiamo il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione, la revocazione contro le sentenze di primo e secondo grado, l'opposizione di terzo contro le sentenze di primo e secondo grado e infine il regolamento di competenza solo se proposto contro l'ordinanza del TAR che si pronuncia sulla competenza. Prima del CPA la disciplina delle impugnazioni era molto lacunosa e di solito la giurisprudenza cercava di colmare tali lacune con la disciplina del processo civile. Infatti ci sono molti riferimenti tutt'oggi, anche se la disciplina del CPA ad oggi ha introdotto una disciplina più puntuale per quanto concerne le impugnazioni. Per valutare le impugnazioni incidentali dobbiamo individuare la nozione di capo di sentenza nel processo amministrativo. L'impugnazione di una sentenza non deve riguardare l'intera sentenza impugnata ma anche solo una parte di essa. L'appello deve identificare l'ambito della sentenza impugnata, rispetto a tale ambito si riapre la controversia e per questo si vuole identificare un'entità minima della sentenza, cioè il capo di sentenza. L'appello può riguardare più capi di sentenza rispetto a quelli non gravati da appello principale o incidentale si forma il giudicato. In dottrina diciamo che ci sono due opinioni diverse sulla nozione di capo di sentenza. La prima identifica il capo di sentenza in base al petitum del ricorso, cioè l'annullamento di un provvedimento ed è una nozione un po' più ampia. Poi abbiamo la seconda nozione che identifica il capo di sentenza col singolo profilo determinato di legittimità fatto valere nel ricorso e quindi a ciascun vizio, è un po' più specifica. Mentre si pone in una posizione intermedia la nozione di capo di sentenza che dovrebbe conformarsi alle utilità che l'accoglimento di una censura comporta per ricorrente, quindi rispetto a censure equipollenti. Ed è anche la nozione che sostiene Negro. Di importanza primaria è l'appello al Consiglio di Stato. La legge istitutiva dei Tarra, in accordo con l'articolo 125 della nostra Costituzione, ha introdotto con carattere di generalità il cosiddetto doppio grado di giurisdizione nel giudizio amministrativo nei confronti della sentenza dei Tarra, che sia parziale o definitiva. La parte soccombente può proporre l'appello al Consiglio di Stato. L'appello si presenta come rimedio a critica libera, poiché è concesso alla parte soccombente, che fa valere comunque oltre agli errori e ai vizi anche la semplice in giustizia della sentenza di primo grado, e poi di carattere rinnovatorio o sostitutivo, perché la decisione del Consiglio di Stato si sostituisce direttamente a quella del Tarra, pronunciando direttamente sul ricorso. Le eccezioni a queste regole sono contenute nell'articolo 105, che prevede tassativamente i casi di rimessione degli atti al Tarra. Legittimate a proporre ricorso in appello sono le parti necessarie del giudizio di primo grado che vengono definite all'articolo 102. Ovviamente vi deve essere un interesse da appellare in coerenza con i principi sull'esercizio e l'azione nel processo, e dunque ha interesse ad impugnare la sentenza di primo grado chi sia soccombente in quel grado di giudizio. La soccombenza non è sempre facilmente configurabile, ma vi sono delle ipotesi pacifiche, ad esempio il ricorrente che non vede accolta la sua domanda di rigetto del ricorso o il controinteressato rispetto alla sentenza di accogliamento del ricorso, oppure delle ipotesi un po' più problematiche come quella nel caso in cui il ricorrente che vede accolto il suo ricorso ma limitamente ha certe censure, mentre altre sono ritenute infondate. Il tenuto deve riguardare le generalità del ricorrente, del difensore, l'identità delle parti appellate, l'identificazione della sentenza appellata e l'esposizione sommaria dei fatti e infine le conclusioni. Lo svolgimento del giudizio davanti al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni del giudizio di primo grado. L'appello contro una sentenza del Tar deve essere proposto con il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La notifica del ricorso in appello va fatta entro 60 giorni dalla notifica di sentenza, se la sentenza invece non è stata notificata allora il termine è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. L'appello deve essere notificato alle parti del giudizio di primo grado, se l'atto non è notificato a tutte le parti ma almeno ad una delle parti è ammessibile ma si procede successivamente con l'integrazione del contraddittorio. Nei 30 giorni successivi dalla notifica il ricorso va depositato presso il Consiglio di Stato e con il deposito si determina anche la costituzione in giudizio dell'appellante e la pendenza del giudizio. L'appello però non comporta di per sé la sospensione dell'esecutività della sentenza. La sospensione può essere disposta dal giudice d'appello su istanza e l'appellante contenuta o nell'appello stesso in un altro atto notificato dalle parti. Gli appellati possono costituirsi in giudizio depositando una memoria di costituzione, il cosiddetto contro ricorso, entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica dell'appello. Le altre fasi si svolgono come quelle del giudizio di primo grado che abbiamo già analizzato, quindi l'udienza di trattazione, la discussione e la decisione dell'appello. Una peculiarità è prevista per l'appello contro le pronunce del TAR che abbiano declinato la giurisdizione e nel caso dell'appello contro le sentenze declaratorie della competenza, in questi due casi viene svolto il rito camerale. L'articolo 99 inoltre riguarda le impugnazioni e detta la disciplina di riferimento per le questioni inerenti alla donanza plenaria. Successivamente abbiamo la revocazione che viene disciplinata dall'articolo 106, il quale ammette nei confronti delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato il rimedio della revocazione. In realtà il CPA non detta una specifica disciplina ma è fatto rinvio essenzialmente all'articolo 395 del CPC. Successivamente abbiamo l'opposizione di terzo che fu introdotta la sentenza 177 del 1995 e infine abbiamo il ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per motivi di giurisdizione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, come viene delineato l'articolo 110. Il ricorso è ammesso per denunciare la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione amministrativa quando, ad esempio, il giudice amministrativo abbia deciso su una questione riservata alla pubblica amministrazione oppure devoluta al giudice ordinario o un altro giudice speciale o quando il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in ipotesi in cui sarebbe stata di sua cognizione. La Cassazione ha accolto con un'interpretazione estensiva del concetto dei motivi inerenti alla giurisdizione includendo anche diverse ipotesi, quali l'ipotesi inerente all'accesso del potere giurisdizionale, l'ipotesi in cui nel collegio giudicante è presente un giudice senza però la qualità di giudice e su questa estensione interviene anche la Corte Costituzionale con l'intervento anche della Cassazione che esprime nuovi dubbi con riferimento all'impugnazione di sentenze del Consiglio di Stato che sembravano aver violato il diritto comunitario. La disciplina processuale del ricorso per Cassazione è dettata dal Codice di Procedura Civile. Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato o 6 mesi dal deposito della decisione nel caso non sia stata notificata. La Cassazione comunque si pronuncia a sezioni unite e le sezioni semplici possono pronunciarsi solo se si tratti di questioni di giurisdizione identica ad altri casi su cui si siano già pronunciate le sezioni unite. Vale il principio del transazio iudici poiché in seguito alla pronuncia della Cassazione viene annullata la sentenza del Consiglio di Stato. Infine possiamo dire che è possibile la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in...